A Raw lunedì notte c'è stato questo bellissimo faccia a faccia secondo me tra Damian Priest e Seth Rollins dove Priest ha messo in palio il suo titolo a Money in the Bank contro appunto Seth Rollins. Da quando è stato annunciato questo match qui vi dico la verità ho una gran voglia di vederlo e non vedo l'ora che arrivi Money in the Bank per vedere questo match qui ma da quando è stato annunciato anche questo match qui il mio cervello ha iniziato a galoppare diciamo con la fantasia a immaginarsi tre possibili scenari che potrebbero succedere. Quindi entriamo un po' nella fascia Fanta Wrestling ecco se così vogliamo chiamarlo ma volevo appunto farci un video anche perché ero curioso di sapere la vostra nei commenti se sono l'unico così pazzo da credere a determinate cose o se alcune cose ve le rivedete anche voi anche voi magari pensate che posso tornare qualcuno accadere qualcosa insomma ditemi la vostra nei nei commenti e schiacciate il like che fa sempre bene ci aiuta a crescere come come canale come community anche qui su YouTube. Allora primo scenario che che metto sul piatto è ovviamente quello più diciamo normale ovvero un Seth Rollins che vince e a SummerSlam avremo questo dream match tra Gunther e Seth Rollins. Prist quindi perderebbe la sua cintura farebbe un passo indietro mi dispiacerebbe perché come vi ho detto in tanti video Prista a me attualmente sta piacendo tantissimo per me è migliorato tantissimo e a Clash at the Castle secondo me ha dimostrato con una prestazione con la P maiuscola di meritarsi di star lì con la cintura dei pesi massimi. Quindi questo è uno dei tre scenari diciamo il più magari più semplice però quello che mi che mi piacerebbe anche meno ecco mettendola un po' così da da tifoso proprio perché appunto Prist con la cintura in mano mi sta piacendo veramente tanto. Secondo scenario e se ritornasse lui mi spiego andiamo indietro a Vrestel Media 40 cosa succede negli ultimi minuti del match? Roman Reigns ha la sedia in mano da una parte c'è Cody Rhodes dall'altra parte c'è Seth e Roman anziché colpire Cody colpisce Seth e perde l'attimo e cosa succede dopo perdendo l'attimo Cody Rhodes gli rifila gli rifila tre cross Rhodes uno due tre e Cody il nuovo campione quindi Roman potrebbe avere il dente avvelenato con Seth Rollins perché appunto gli è costato il match Roman ha preferito colpire Seth Rollins anziché Cody e di fatto gli è costato il match questa scelta qui quindi un Roman Reigns che torna a Money in the Bank costando il titolo a Seth Rollins e lanciando poi la loro sfida per Summerslam con i due poi che vedrebbe come vincitore proprio Roman Reigns che nei match importanti non ha mai battuto Seth Rollins quindi Roman esorcizzerebbe anche diciamo questo questo demone e perché dico che potrebbe accadere anche questo? perché di fatto Roman non ha un roster cioè se vi ricordate nel draft Roman non c'era Poleyman ha spiegato che l'ha tolto lui perché l'ha tolto lui? perché magari in previsione di questo match qui potrebbe esserci lo zampino di Poleyman un Poleyman che magari potrebbe seguire Roman in questa sua diciamo breve avventura con con Seth Rollins al suo fianco anche se l'idea di un Roman da solo che decide di fare questa cosa qui da solo senza neanche Poleyman di fianco potrebbe essere interessante come cosa e poi un'altra cosa è che terrebbe Roman molto lontano da Cody Rhodes perché almeno per il mio gusto personale Roman attualmente più sta lontano da Cody Rhodes e meglio è e la stessa cosa vale per Cody quindi questo è il mio diciamo secondo scenario che che propongo il terzo scenario forse ancora un pochettino più estremo perché prevederebbe che CM Punk fosse già pronto sappiamo che a Clash of the Castle ha detto che in questi giorni avrebbe avuto un check up medico per che insomma gli avrebbe dato un po' il punto della situazione se è pronto per tornare o no e magari continuando diciamo a fantasticare magari Punk gli diranno sei pronto puoi tornare a combattere e dopo aver eliminato Drew McIntyre perché di fatto Drew McIntyre nell'ultima puntata di Raw ha detto che se ne andava e perché non andare a questo punto sul suo secondo bersaglio dopo essere riuscito a a farla pagare a Drew McIntyre perché non farla pagare anche a Seth Rollins con Punk che potrebbe fare un'interferenza anche lui nel match oppure perché no arrivare dopo il match il match finisce e a Summerslam anziché avere Gunter contro Seth avere un Gunter contro Seth contro Punk oppure nel primo live event dopo Summerslam se con Punk che costa il titolo a Seth Rollins e quindi nel primo live event successivo ci sarebbe la sfida Punk contro Seth Rollins ed è uno scenario anche questo so che ci devono essere tanti tasselli che si devono mettere a posto perché Punk deve essere pronto per tornare a combattere sappiamo che nel suo infortunio richiederebbe un po' più di tempo almeno un altro mese in più però insomma giocare con la fantasia non costa nulla quindi un Punk che torna anche lui a Money in the Bank se fosse durante il match per costare il match anche lui a Seth Rollins cosa che spero perché ripeto a me Priest sta piacendo tantissimo oppure dopo il match per andare a fare un match più in là o con o senza la cintura o un'altra cosa che potrebbero fare è che Punk va con Seth Rollins magari con la cintura in palio e poi ritorna Drew per incastrare di nuovo tutto e fare una sfida 3 o una sfida 2 tra Punk e Drew insomma lì dopo vedete la fantasia riprende ad andare e a galoppare ancora di più quindi non aggiungo altro se no potrei star qui a parlare ancora ancora tanto però una cosa è fuori discussione secondo me questo match qui ha tante cose che potrebbe far accadere che sia Roman che sia Punk insomma ha tante ha tante vie che può prendere questo questo match qui e sono ripeto curioso di sapere la vostra nei nei commenti perché dai non posso essere l'unico che si è immaginato questa questa cosa qui dai spero che anche qualcuno di voi mi sostenga in questa mia pazzia diciamo che che mi è presa e niente quello che volevo dire ve l'ho detto ripeto per tutte le volte il like e nei commenti ditemi la vostra noi qui su youtube ci vediamo alla prossima con un altro video e ciao